Che bello vedervi, se durante il sermone qualcosa vai storto è perché ho dei sentimenti misti dentro di me, è un sentimento di gioia di ritrovarvi, di rivedervi, di essere qua ancora una volta in mezzo a voi, di lodare insieme a voi, di dire quello che abbiamo appena detto al Signore. Grazie Signore che Tu aprirai una via. Questa è stata la nostra preghiera, lo so che di tanti voi, in quest'ultimo anno di 2020, pure noi, in un momento di scarico proprio fisico-emozionale, abbiamo pregato per tante volte Signore, aprirci una via perché non sappiamo cosa fare. E il Signore ci ha direzionato a questo rientro, almeno per un anno, questo è il nostro progetto. E poi, sentimenti misti, perché sì, è bello perché possiamo tornare a casa. Io dico sempre tornare a casa, tornare dai miei, alla mia famiglia, alla famiglia di Sara, ai nostri amici, alla nostra chiesa, alla nostra cultura, è sempre qualcosa di bello. Però c'è sì, un sentimento molto grande di tristezza, sì, dire perché ormai l'Italia fa parte del nostro cuore, eppure Roma, tornare a Roma è stata davvero una grande gioia. E quello che voglio lasciare è per voi, in questa mattina pensavo che cosa... Tante volte René mi ha chiesto, no, noi facciamo questa serie, tu hai questo branno, allora vai lì e studia e fai quello. Questa volta non mi ha lasciato libero, fa Dio santo, ma proprio questa volta? Era meglio se mi desi qualcosa, no? Che cosa scelgo di pregare in questo ultimo momento, no? Due giorni prima di partire, è difficilissimo, e quindi ho scelto un branno, una preghiera, come non è stata mia, una preghiera di Paolo, alla chiesa dei filippesi, no? Quindi è quello che voglio leggere insieme a voi, e parlare sul tema pregare con gioia, perché veramente voglio pregare con gioia, non soltanto per voi, ma per l'opera che il Signore ha iniziato, non soltanto in noi, in voi, in questa città, in questo paese. Quindi voglio leggere insieme a voi, filippesi 1, capitolo 1, nel versetto 3 al versetto 11, che dice proprio così. Io ringrazio il mio Dio, e questo vorrei non soltanto leggere quello che voglio condividere, ma vorrei che fosse pure, sentite pure come fosse la nostra preghiera per voi, no? Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. È sempre in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia. A motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con un affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Bello tornare a Roma, è bello guardare tutti i monumenti, tutte queste porte pure. Abbiamo appena sorpassato lì Porta Pia. Una domanda per voi che conoscete Roma molto meglio di me, immagino. Che cosa si trova subito dopo quando si sorpassa una di queste porte? C'è sempre qualcosa? Traffico. Sì. Oggi no, oggi grazie a Dio non c'era il traffico. Ma c'è sempre un spazio grande con una fontanna, come si chiama quel posto? Una piazza. C'è sempre una piazza, esatto. Quando si passa a Porta Pia c'è una piazza, quando si sorpassa lì qualsiasi porta di Roma, a Porta San Paolo c'è sempre una piazza dopo. E quindi quando si guarda questa lettera, lettera, che bello guardare, quando si entra in questa lettera, la lettera dei filippesi, che è conosciuta come la lettera della gioia, la mappa della gioia, perché questo è un tema ricorrente in questa lettera. E quindi quando si entra, quando si sorpassa, quando si entra proprio in questa lettera, qual è la prima piazza che si vede? È una preghiera. È una preghiera. E è interessante che questa preghiera, io dico sempre che la piazza preghiera, diciamo che non è la piazza dove facciamo un'associazione con la gioia, purtroppo. Non è sempre la preghiera quando pensiamo ai top 10 eventi della Chiesa, quel più bello, forse un ritiro, è qualcosa. No, qual è il top 10 eventi della Chiesa? Non è la serata di preghiera, forse, forse. È per questo che dico che la piazza, forse pure della nostra vita, la prima piazza della gioia non sarà mai la piazza preghiera, forse la piazza salute in questi giorni, la piazza negativa nell'esame, il tampone, la piazza vacanza, la piazza successo, ma non mai la piazza preghiera. Però è interessante quando si sorpassa, quando si entra in questa lettera, c'è questa piazza preghiera. E' interessante, quando guardiamo questa preghiera, Paolo dice, io prego con gioia. Non è soltanto una preghiera come siamo abituati, abbiamo già sentito, abbiamo studiato, che se vogliamo scoprire la gioia, dobbiamo mettere da parte le nostre mappe a cui siamo abituati e a imparare a guardare un'altra mappa, a prendere un'altra mappa per noi stessi, un'altra mappa nel cuore che ci dice dove dobbiamo trovare la vera gioia. E una di queste piazze dove si entra, dove fa questo percorso per la gioia nella vita, è la preghiera. E' interessante che quando Paolo dice di questa preghiera, dice sempre, io prego con gioia. Quindi anche se il mio cuore oggi è turbato, come dicevo prima, non perché è un problema, no perché devo lasciare questo paese, questa città, lasciare questa chiesa, questa comunione che abbiamo nel cuore, per un po' di tempo, che non sappiamo ancora quanto tempo sarà. Però prego con gioia. Prego con gioia. Non è una preghiera di tristezza, anche se c'è una parte di tristezza. Io ho imparato in questi ultimi anni a non nascondere la mia tristezza, no? Ebbene, non so se avete guardato quel film Inside Out, è interessantissimo, perché non parla soltanto della gioia quando si costruisce una vita felice, si parla pure della tristezza. E abbiamo imparato, questo mondo un po' ci spinge a nascondere la tristezza, no? Quando qualcuno è triste, cosa diciamo? No, dai andiamo, facciamo una passeggiata, dai andiamo, prendiamo un gelato, dai, passo da te, ti prendo e prendiamo un caffè. Dai, una pizza, una matriciana, come René, o, non è qua, un cioccolato o qualcosa del genere. Sempre qualcosa, no? Non vogliamo. La tristezza è qualcosa che ci lascia un po' col cuore stretto, è qualcosa che ci sconvolge. Anche se non è la nostra tristezza, non vogliamo che nessuno sia triste. Quindi, no, dai, vengo da te e facciamo qualcosa. È interessante che quel film ci lascia proprio quello senso giusto, no? Che la tristezza fa parte. C'è un momento che pure la gioia dice, dai, tristezza, è il tuo momento. E la tristezza, ma io? Sì, sei tu. Sei tu. Che fa parte. E poi c'è quella pallina che sono un mix di tristezza e gioia. Quindi pure Paolo dice, sì, abbiamo vissuto. Lui non è che vive in una crociera in questo momento facendo un viaggio tranquillissimo, ma in catene, proprio qui a Roma, in carcere, è scritto, tanto, dicendo, la gioia. Io prego per voi con gioia. Ma come possiamo pregare? Come possiamo noi pregare? Come posso io pregare per voi? E come potete pure voi pregare in questo momento con gioia? Perché lo so che ci sono tante sfide, come proprio questo che abbiamo, stiamo vivendo oggi, no? Tante persone, tutto è spassato in questo tempo, non si può avvicinare, non si può abbracciare, con tanti questi divieti, tanti limiti. Come possiamo pregare con gioia? Perché la mia preghiera è sempre una tristezza, è sempre dire, Signore, boh, che faccio? Signora, aiutami perché, non lo so, è il mio futuro, l'esperanza, dov'è? Come possiamo pregare con gioia? E mi piace tanto il versetto di numero 6 di questo brano che abbiamo letto che dice, ho questa fiducia che colui che ha cominciato questa opera buona porterà, condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È interessantissimo questo versetto e questo versetto che vorrei proprio sottolineare in questo momento. Perché possiamo pregare con gioia? Perché abbiamo una fiducia in Dio, abbiamo una certezza in Dio. Paolo può pregare con gioia perché ha fiducia in Dio, in quello che lui sta facendo, in quello che Dio sta facendo. La gioia cristiana non dipende dalle circostanze favorevoli. In questo caso, proprio Paolo che è in catena, ma lui dice, io posso pregare con gioia perché ho questa fiducia, ho questa certezza. È interessante che questa preghiera gioiosa non potrà mai nascere se non c'è fiducia nel fatto che Dio è affidabile. Se Dio è affidabile, noi possiamo sì pregare con gioia. La gioia può essere tale se ci si può fidare di Dio sempre e ovunque. Perché puoi essere gioioso oggi? Dio ha iniziato un'opera in te, Dio ha iniziato un'opera in noi, Dio ha iniziato un'opera in questa chiesa. E che si chiama proprio opera, no? un'opera di speranza, un'opera di salvezza. Dio ha iniziato un'opera in te, Dio ha iniziato un'opera in noi, ti ha salvato e ti porterà ad essere una persona matura, guarita, generosa. prega e abbi fiducia. Paolo poteva pregare con gioia perché sapeva di poter avere fiducia in Dio. Io non so, ma Dio sa. Non sappiamo nemmeno noi come sarà il nostro futuro in questo rientro. Non sappiamo come sarà la vostra vita in questo tempo, il vostro futuro, ma possiamo pregare con gioia. Perché? E qui è un piccolo sermone dentro il sermone. C'è questo versetto 6, no? ho questa fiducia che con lui è cominciato in voi. Un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Cinque cose in questo versetto. Quindi, prima di tutto, c'è una convinzione, no? C'è una certezza. Per Paolo non era una possibilità. Lui aveva una fiducia incrollabile. Io ho questa fiducia. È una convinzione. Tu hai questa convinzione. Tu puoi dire come Paolo, io ho questa fiducia. Non in te. Non in me. non in noi. La fiducia è in Dio. Io ho questa fiducia. E poi, il secondo punto di questo piccolo sermone dentro questo sermone, c'è un agente qua, no? Perché dice che colui, quindi c'è un agente di quest'opera buona. Non sono io. Non sei proprio tu. Non siamo noi. Questo agente è il proprio Dio. Colui che ha iniziato quest'opera buona. È stato Dio a progettarla. terza cosa è che c'è una natura. Com'è questa opera? È un'opera buona. È un'opera buona. Lo so che per noi forse questa parola buona non sembra quello che dovrebbe sembrare, no? Nell'icolo greco eppure ebraico questa parola buona c'è un peso gigante, no? Pure Dio ha iniziato, ha creato tutte le cose. Alla fine di ogni giorno diceva che quello era buono. Oggi per noi è buono, no. io voglio una cosa eccellente, super, extra, top e tutte queste parole. Però come la Bibbia dice la parola buona vuoi riassumere la perfezione. Quindi questa opera che Dio ha iniziato è un'opera buona. E poi dice che c'è una dinamica qua, no? Che colui che ha iniziato porterà la fine. Quindi lui ha iniziato porterà. Ha iniziato il passato. Porterà il futuro. Siamo nel presente. Che cosa succede? Siamo in mezzo a un processo. Siamo in mezzo a un processo. Dio la finirà. Non ha mai lasciato un lavoro incompiuto. Non ha mai lasciato un progetto senza finirlo a metà strada. La vostra salvezza, questa opera buona non è ancora finita in noi. Non è ancora finita in noi. Dio sta ancora lavorando. È un processo. E questo è bello. E questo è il modo in cui posso guardare. Immagino che quando guardo ad esempio il mio matrimonio, Sara, e ci sono sempre quei momenti di no, è sempre bello. Tutti i matrimoni sono belli, si amano, ti voglio bene, ti amo, tu sei la principessa della mia vita. No, non è sempre così. E sappiamo tutti. Ci sono quelli scontri ogni tanto, no? E quando la guardo dico mamma mia che perfezione. Però quando lei mi guarda fa Dio santo e vabbè tu hai iniziato lo so che non hai finito ancora e la so che la sua preghiera signore finisce questa opera. La preghiera di Sara ogni giorno finisce signore quest'opera finisce. Però è soltanto per scherzare ma era vero. ma è vero. Possiamo guardare gli uni e gli altri ma lui è ancora così ma lei è ancora così ha questo fratello la chiesa ogni tanto ci sono queste cose ma quello lì ha Renè ma Renè ma scusami Mila dai tutte le persone scusa il Signore ha iniziato un'opera in noi non ha finito ancora. Perché siamo così sai a volte ogni tanto siamo così rigido con gli altri e a volte con noi stessi il Signore ha iniziato però non è ancora finito porterà la fine è bello guardarvi un'opera buona che il Signore ha iniziato e non ogni voi ho avuto il privilegio di vedere tanti momenti belli il percorso l'inizio di percorso di qualcuno la metà strada di altri però questo percorso che è iniziato il Signore non è ancora finito nemmeno la nostra vita non è che lasciamo Roma lasciamo l'Italia e torniamo abbiamo finito il Signore ha finito il compito no pure questo momento che stiamo vivendo fa parte di questo percorso che il Signore non ha finito ancora non ha finito un processo e l'ultimo di questo versetto dice porterà la fine fino al giorno di Cristo Gesù c'è un compimento c'è una data questa opera di Dio in noi sta andando verso il compimento che avverrà nel giorno di Cristo Gesù quando è questo giorno quando Dio verrà a portarci via Dio non si arrende mai su di noi non lascerà mai questo lavoro incompleto qui ancora inciampiamo in molte cose ma quando Cristo tornerà saremo trasformati il ritorno di Gesù è il compimento finale di questa opera buona Dio non è ancora non è ancora venuto Dio finirà per invadere la storia dice C.S. Lewis ma quando ciò accadrà sarà la fine del mondo perché quando l'altore sale sul palco è perché lo spettacolo è finito grande C.S. Lewis Dio non ha finito ancora questa opera Dio ancora non è sul palco Dio ci ha lasciato un compito mentre Lui ha ancora questo compito in noi questo processo è per questo che posso pregare con fiducia perché il Signore non ha finito non è perché abbiamo qualcosa ancora da fare abbiamo tanto ancora da fare no è perché Dio non ha finito quest'opera in noi Dio non ha finito con voi Dio non ha finito con me c'è ancora da fare e per questo mi dà tanta gioia di poter ricordarmi di voi e dirci Signore grazie e a volte pensiamo eh ma perché stai ringraziando perché il Signore non ha finito perché siamo imperfetti eccoci è quello siamo tutti in questo processo ma è bello che il Signore ha iniziato ha cominciato quest'opera buona è questo che mi porta gioia io vi lascio con cuore pieno di gioia perché lo so che lo stesso Signore che sta portando a compimento questa opera buona in me sta portando a compimento anche a voi e poi perché posso pregare con gioia perché il Signore mi ha dato un amore per la Chiesa come ha dato a Paolo guarda cosa dice il versetto 3 che dice mi ricordo di voi e poi dice riconosce la partecipazione al Vangelo dal primo giorno versetto 5 li ha nel cuore versetto 7 li ama con affetto profondo versetto 8 è bellissimo posso gioire perché il Signore mi ha dato quest'amore per la Chiesa di Cristo e questa Chiesa in particolare la Chiesa opera posso pregare con gioia posso pregare con gioia non ci sarà mai gioia nella vita senza amore per la Chiesa semplicemente le due cose camminano insieme c'è un predicatore che recentemente ha predicato un sermone su cui il titolo era felicità è un progetto com'era? un progetto collettivo lui conosce questo predicatore perché è proprio lui la felicità è un progetto comunitario la felicità è un progetto collettivo quindi posso pregare con gioia nel cuore perché abbiamo avuto questa opportunità di condividere tante cose insieme Paolo dice ho ricordo di loro riconosce la partecipazione nel Vangelo dal primo giorno li ha nel cuore li ama con affetto è questo che voglio dire a voi in questo giorno ho tanti ricordi di voi riconosco la partecipazione del Vangelo che avete che avete tanto fatto e che fate ancora attraverso questa chiesa vi portiamo nel cuore vi amiamo con affetto profondo vi amiamo con affetto profondo non ci sarà mai gioia nella vita senza amore per la chiesa io posso tornare con un cuore pieno di gioia perché il Signore mi ha dato quest'amore e non dico perché sono perfetto non voglio qui usarmi come un modello come esempio no perché il Signore mi ha dato quest'amore già quando ero piccolo perché la chiesa mi ha aiutato tanto mi ha servito da quando i miei genitori si sono divorziati e in quel momento lì la chiesa ha servito per aiutarmi per darmi un sostegno per dare insegnamenti cosa deve essere un uomo cosa deve essere un padre e un discepolo di Cristo ho imparato tutto in quella chiesa come essere un cittadino e tante altre cose che la chiesa mi ha insegnato a come portarmi con gli altri in rapporti diversi con le persone che pensano diversamente da me ho imparato tutto nella chiesa e questo è per questo motivo che il Signore ci ha dato pure alla mia moglie alla mia figlia e la stiamo insegnando proprio a amare la chiesa di Cristo perché lì troviamo tante cose tante cose e vi incoraggio proprio amare la chiesa lo so che in questo momento sembra proprio difficile perché non possiamo nemmeno esprimere questo amore per la chiesa il modo in cui vogliamo però non è soltanto negli abbracci dobbiamo pure sai sviluppare questo amore nel nostro cuore ci sono tanti modi di amare la chiesa di Cristo e possiamo fare in altre parole non si gioisci mai da soli o per sé stessi ma sempre per gli altri e con gli altri la gioia cristiana è sempre condivisa io ringrazio il Signore che mi ha dato questa gioia che ci ha dato questa gioia di condividere questo amore con voi e ultimo perché abbiamo possiamo pregare con gioia perché abbiamo un desiderio per la crescita è come Paolo prega con gioia per i fratelli e sorelle perché ha fiducia nell'opera di Dio che Dio ha iniziato e nutre l'amore profondo per loro ma il suo amore non è retorico generico desidera ardentemente le cose migliori per loro e dice perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e reprensibili per il giorno di Cristo ricolmi di frutti di giustizia che essi hanno per mezzo di Gesù Cristo allora è questo il mio desiderio il desiderio per la vostra crescita il loro bene il vostro bene il meglio la preghiera non è per meno o peggio o per ordinare amministrazione ma per il meglio nella condizione data e sotto la providenza di Dio l'amore per loro non è una vita anonima e spenta ma per un amore un amore abbondante non dice soltanto un amore un amore abbondante un amore abbondante che si veda proprio che si veda proprio lo so che forse un giorno come oggi che è tre gradi è difficile spressare eppure con questi divieti spressare questo amore abbondante però prego che il Signore vi dia pure la saggezza e la creatività di come farlo in modo bello e una vita ricolma di frutti gustosi e nutrienti per la gloria di Dio da gioia pregare così lione per gli altri io veramente prego per voi vi faccio qui come posso dire un un accordo con voi come dice Paolo sempre che mi ricordo di voi prego con gioia e vi sfido pure a pregare per noi sempre che mi ricordo di voi prego con gioia e sappiate questo che pregheremo sempre perché Roma fa parte del nostro cuore Italia fa parte del nostro cuore voi chiesa opera fate parte del nostro cuore come pregate voi come tu preghi per concludere questa è la prima piazza di questa mappa della gioia in questo in questa lettera è la preghiera per imparare a gioire nella vita la preghiera è il passaggio obbligato è un passaggio obbligatorio dovete passare per la preghiera se volete continuare a gioire come chiesa non dimenticate mai della preghiera la preghiera è interessante che questo è stato il mio tema per l'anno di 2020 la preghiera mi ricordo bene che in quel capodanno 2019-2020 avevo tanti piani per 2020 avevo tanti piani però i piani del Signore sono più alti sono superiori e quest'anno la mia preghiera è stata diversa ho detto Signore l'ultimo anno la maggior parte delle mie preghiere sono state frustrate non è colpa Tua è colpa mia perché non avevo capito ancora tante cose Signore e quest'anno voglio pregare in modo diverso Signore la mia l'unica preghiera Signore io voglio conoscerti di più e Signore guidami Tu i miei piani Signore lasci stare guidami Tu Signore perché i Tuoi piani sono sempre migliori non ho detto che non ho piani in questo senso lasci stare Signore quelli non sono importanti importanti sono i Tuoi non conosco le Tue vie non lo so come sarà quest'anno tanti dicono spero che quest'anno sia migliore e spero che quest'anno la Tua grazia sia su di me Signore ma come l'anno 2020 non è stato 2020 è stato un anno importantissimo 2020 è stato un anno importantissimo perché abbiamo capito la nostra finitudine abbiamo capito che non siamo noi in controllo abbiamo capito l'importanza dei rapporti prima un messaggio Whatsapp 2020 no Whatsapp non basta non basta abbiamo capito tante cose abbiamo capito come essere chiesa senza un locale un tempio abbiamo capito come con creatività come raggiungere tante persone con i mezzi che il Signore ci ha messo nelle mani abbiamo capito com'è bello conoscere la persona accanto a noi cioè la nostra propria famiglia perché abbiamo passato tanto tempo insieme c'è uno lì al sud proprio a Bar che diceva proprio così sai ho passato tutta la quarantena con la mia famiglia ah sai sono buona gente abbiamo capito tante cose e quest'anno che cosa prego per quest'anno Signore che la tua grazia continui su di noi che la tua grazia continui su di noi che cosa prego per voi non lo so come sarà vi accompagnerò da lontano ma lo so che la grazia del Signore è con voi non vi abbandonerà non vi lascerà mai come abbiamo cantato tanto questa canzone insieme quindi questa è la mia preghiera per voi una preghiera di gioia prego con gioia ho questa fiducia ho questa fiducia che colui che ha iniziato un'opera buona in voi in noi porterà condurrà a compimento non 2021 o 22 non lo so quando fino al giorno di Cristo Gesù è per questo che prego con gioia e questa è la mia sfida per voi pregate con gioia pregate con gioia abbiate questa fiducia questo è un versetto da memorizzare ho questa fiducia che colui che ha iniziato un'opera buona in voi porturrà condurrà porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù è così che prego come preghi tu come preghi tu che il Signore ci insegni a pregare con gioia per avere fiducia in Lui amare la Chiesa e desiderare la crescita di tutti preghiamo ancora una volta Signore ti ringrazio ti ringrazio Signore perché tu conosci il mio cuore tu sai Signore com'è il nostro cuore come famiglia tu sai Signore com'è il cuore di ognuno di noi che è qui questa mattina una mattina di freddo Signore ma grazie Signore perché tu ci riscaldi il cuore con la tua presenza Signore tu conosci Signore ogni sentimento che portiamo nel cuore tu sai Signore che ogni tanto la fiducia non fa parte di questi sentimenti Signore non fa parte di queste certezze ma ti prego Signore che tu ci aiuti Signore a avere questa fiducia a pregare con gioia a pregare con gioia Signore perché abbiamo la fiducia che quell'opera che il Signore ha iniziato in noi tu porterai il compimento Signore fino al giorno di Cristo che questa certezza che questo versetto che questa convinzione Signore sia il nostro aiuto ogni giorno quando guardiamo a noi stessi quando guardiamo le circostanze intorno a noi quando guardiamo gli altri Signore quelle che sono attorno a noi quando guardiamo la chiesa di Cristo quando guardiamo quest'anno questo nuovo anno che è davanti a noi che non sappiamo come sarà come si svilupperà tante cose i vaccini i contagi i numeri i divieti e zone i colori diversi tante cose Signore che sono davanti a noi ma grazie Signore perché l'unica certezza fiducia che abbiamo è in Te veramente che quell'opera che il Signore ha iniziato porterai alla fine aiutarci a non dimenticare questo processo che facciamo parte che siamo in mezzo a un processo che anche questa situazione che viviamo non soltanto in questa città in questo paese ma mondialmente Signore è una situazione che sicuramente Tu stai usando Signore in questo processo che stiamo vivendo aiutaci a non dimenticarci che Tu è che sei in controllo di tutto e Ti ringraziamo Signore perché se non sei Tu Signore sicuramente quest'anno Signore sarà diverso ma grazie Signore perché con Te con la Tua grazia e con la Tua presenza questo anno Signore può essere un anno meraviglioso dove Ti conosceremo Signore di più ancora di più Tu sei un Dio eterno Signore non possiamo dire che Ti conosciamo abbastanza mai Signore avremo ancora l'eternità per conoscerti Signore e non sarà mai abbastanza grazie Signore perché Tu sei un Dio meraviglioso un Pai Signore attento ai Tuoi figli e quello che fai per noi Signore è sempre un'opera buona e Ti ringrazio per questo prego per me prego per la mia famiglia prego per loro prego per questa Chiesa e per l'opera buona che Tu stai portando a compimento qui a Roma attraverso questa Chiesa Ti ringrazio per l'opera buona che Tu stai portando in ognuno di loro Signore e Ti prego Signore che loro possono avere la gioia di avere questa certezza nel cuore nel nome di Gesù Cristo prego Signore Amen Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti